27 gennaio 2023 oggi saranno passate le 15 a docinema dove ce ne andiamo io me ne vado a spasso a perdere tempo a godermi la salute se dove ce ne andiamo ne vado a spasso con la becci poi proseguo a piedi quindi qui mi trovo al bivio c'è un palazzo delle escursioni quindi c'è il bivio fermentino un'ora e trenta forse della penna o due ore e trenta a monte romonelli tre ore e trenta san l'onardo due ore e trenta passando per il fermentino poi per andare al parco san l'onardo alla ponte anche con san l'onardo praticamente trenta minuti cento passi due ore e trenta io però spesso non seguo il classico sentiero ma faccio continue deviazioni mi fermo e quindi il mio percorso indico sempre con le ore di oggi quante ore ho fatto guarda qua l'orario sul videotelefonino orario di partenza di arrivo e di ritorno quella è l'esatta ora del mio percorso poi io più che escursioni spesso faccio anche l'arrambicata arrambicare significa quando uno sale sopra e non riesce a mantenersi coi piedi per agevolare la salita cerca gli appigli si aggrappa ai rami ramoscelli alla roccia quindi più fatica si è più soggetti ad infortuni poi infortuni maggiori succedono accadono quando il terreno è molto umido scivoloso roccia creabile quando non si conosce il percorso quando c'è neve soprattutto quando il terreno è gelato grazie grazie grazie